se non so come dirvelo ma è tornata l'estate anche qua in inghilterra infatti sono qua in macchina con la mia granita versione inglese sono stata da costa e mi sono praticamente ordinata una granita con passion fruit e mango ed è la cosa più buona più buona del mondo aspettate che la assaporo volevo fare due chiacchiere con voi in macchina perché oggi è domenica e ho detto sai che c'è voglio fare due chiacchiere con le ragazze ho già fatto 3.000 cose è mezzogiorno e mezza e ho comprato delle cosine anche da prima che vi faccio vedere ho preso un paio di infradite infradito che mi servivano queste qua tra l'altro super graziose con le ciliegine costavano originariamente 250 e io le ho pagate un pound secondo me un pound per questo infradito anche con questi dettagli carini ci stanno tutti poi sempre da primark sono andata per la sophie per prenderle un paio di finte crocs ogni anno le compro e si è sempre trovata bene queste qua sono fatte super graziose proprio a gradazioni di colori rosa viola e hanno i gelati i ghiaccioli i lolli veramente super carine fatte così tra l'altro ovviamente questo si può anche alzare così e le ho pagate le ho pagate le ho pagate 5 pound super carine e così a manuale ciabattine da casa e queste le usa semplicemente per per camminare perché ragazze si trova veramente bene con questa tipologia tipologia di sandalino fatto così e non sono riuscita a trovarle un sandalo un pochino più elegante chiuso da clarks quest'anno non le hanno proprio fatti e poi ho comprato anche una sacchetta di paia che è una specie di borsa per mettere l'acqua per mettere le cose del del mare che ci servono magari per mettere anche il tablet insomma tutte quelle cose che voglio portarmi in giro e volevo avere una borsettina carina per evitare di fare magari sapete delle foto perché voglio appunto fare un sacco di foto quest'estate sapete quando siete in giro e volete unire la praticità alla cuteness e quindi volete fare delle foto carine però magari avete qualche busta qualche sacchetto qualche zaino super proprio becero e non volete magari farlo tenere la vostra mamma o comunque la vostra mamma vi dice senti ti faccio la foto subito dai forza e voi siete lì col sacchetto e venite con la foto col sacchetto di plastica oppure con cose così insomma mi sono presa questo sacchettino questa sacca questa borsa che secondo me molto carina e la motivazione per cui l'ho presa è perché ho anche comprato un cappello che si abbina a questa colorazione e tra l'altro perché era in saldo perché questa originariamente costava 10 pound sono fissata con originariamente oggi quindi scusatemi se lo ripeterò all'infinito però appunto invece di pagarla 10 pound l'ho pagata 7 e secondo me è super cutie poi ovviamente voglio far vedere anche mia mamma se magari le può interessare da tenere e devo dirvi che è fatta molto bene anche all'interno secondo me è anche carina proprio come come tote bag molto carina molto stilosa poi sta bene con il nero sta bene con tutti questi colori basic è fatta proprio così e adoro mi piace tantissimo quindi ho preso queste tre cosine poi ho anche preso due sorprese per la sophie le faccio vedere dai le faccio vedere perché non so se ve l'ho detto ma con la mia famiglia abbiamo la tradizione di praticamente celebrare i compleanni insieme perché purtroppo mi papà essendo un'età un po delicata e anche il fatto che purtroppo ha un problema la gamba non non diventa un po più faticoso insomma viaggiare quindi soprattutto di inverno abbiamo evitato questo inverno di farli venire e praticamente vogliamo celebrare tutti i compleanni insieme il mio, quello di mio papà, quello di mia mamma, quello di Sofie ovviamente io volevo portare due pensierini a Sofie quindi ho preso questo lego activity come posso chiamarlo? 3-1 exclusive models praticamente è un activity, eccolo qua, un book con le storie anche e ha dei lego incorporati qua che secondo me era un'idea molto carina e all'interno è fatto così praticamente ha tutte le attività sapete che la Sofie va matta per queste cose e durante quest'estate appunto voglio farle fare anche delle attività perché a lei si stanca se non fa anche queste cose proprio manuali di colorare, riempire e fare le porterò ovviamente anche il tablet però il fatto di utilizzare una penna è diverso appunto dal tablet interessante il fatto che questo c'è scritto che il valore è di 10,99 ma io l'ho pagato 2,50 quindi secondo me anche un mezzo a fare e intanto c'è la gente paccheggiata vicino a me che sta guardando ma non ce ne frega niente perché a noi non ci interessa quello che pensano gli altri però mi stanno fissando letteralmente e poi ho preso anche questa che secondo me è molto carina come idea è una BFF, una specie di Barbie insomma ma non è una Barbie, è di questo brand e c'è scritto ah è del brand Cry Babies ragazzi non ci avevo fatto caso se devo dirvi la verità l'ho scoperto adesso insieme a voi è del brand Cry Babies che la Sofie ama tra l'altro quindi quando lo vedrà sarà tipo over the moon e mi piaceva il fatto che ha questa scatolina molto interessante che può girare all'interno poi troverà lei, Hannah e se non lo sapete il secondo nome della Sofie è Hannah quindi ho pensato che fosse una cosa cute e poi troverà tutti gli accessori tra cui le scarpe, i pantaloni e tutte queste cosine qua un'altra volta anche questa cosa costava proprio 19,99 come valore di mercato e io l'ho pagata 9,99 che secondo me ci sta tutto e spero appunto che le possa piacere quindi ho questi due pensierini e un altro pensierino a casa giusto per darle qualcosa quando siamo lì ma c'è mia mamma già la vizia perché la Sofie conosce il negozio dei giocattoli a memoria quindi la nonna e il nonno ovviamente appena arriviamo la vizione quindi la Sofie mi fa sono contentissima di vedere la nonna e il nonno e sono contenta anche di andare nel negozio perfetto, se lo ricorda proprio tra l'altro comunque sipo un attimino e vi voglio parlare di Temptation Island allora, 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 allora devo dire la verità, quest'anno non pensavo che mi sarei messa a guardare Temptation Island e invece mi sono letteralmente appassionata ho cominciato a guardare la prima puntata e credo che adesso siamo arrivati alla terza puntata che è stata appunto messa in onda questo giovedì le coppie, ragazzi allora, io ho qua il telefono ho qua il telefono con i nomi perché sono pessima nel ricordarmi i nomi però io ho addocchiato due tipi due tipi in quel branco in realtà anche tre allora, la prima coppia è Alessia e Lino ok e la seconda coppia se non erro, eccoli qua sono proprio Jenny e Tony quindi Lino e Tony dalla parte dei maschi io mi dico una cosa mi chiedo sì, va bene, Temptation Island comunque è sia in Italia che in altri paesi nel mondo il format prevede che ci siano bellissime ragazze su un'isola e bellissime ragazze da un'altra che fanno i tentatori ma io mi chiedo ma questi fidanzati quando arrivano su quell'isola sembrano sembra quasi che non abbiano mai visto una donna cioè io sono rimasta veramente scioccata da Lino e da quell'altro ragazzo appunto Tony ragazzo, è un uomo è un uomo di 41 anni ok e sono rimasta completamente sconvolta poi c'è un altro personaggio che si chiama Luca Luca con Gaia allora, partiamo per ordine comunque Lino si è completamente dimenticato di essere fidanzato e io veramente no comment perché lei ha avuto lei voleva credere credo chiedere il follow anzi lo ha già chiesto diverse volte lui non si è mai presentato perché appunto sta conoscendo la ragazza dall'altra parte e palesemente non gli interessa niente di questa ragazza anzi sta letteralmente sondando il territorio a mo' di gatto che fa la pizza fa i biscotti sulla pancina perché veramente quando fa quelle domande del tipo ma cosa ti piace in un uomo ma ti piacerebbe un uomo con la pancia cioè proprio lì pessimo no comment e stessa cosa stessa lina di Tony che ha veramente l'età di un uomo cioè lui a quell'età dovrebbe avere la maturità di avere la testa per farsi una famiglia per mettere su appunto un qualcosa ma veramente disastroso e non ho niente da dire alle ragazze più di tanto se ci sono due case anche dall'altra parte ma i ragazzi questi uomini cioè io mi chiedo come sia possibile che svengono per due fondoschiena sembra davvero che non hanno mai visto una donna e secondo me è davvero demoralizzante per per quelle ragazze che piangono e io ora non so cosa pensate voi di questa cosa ma vi dico cosa ne penso io cosa ne penso moi per me la mancanza di rispetto non esiste non esiste praticamente quelle persone che ci sono lì dall'altra parte questi tre tizi per me rappresentano delle vere e proprie red flags e personalmente non potrei mai stare con una persona del genere che fa determinati apprezzamenti ma anche veramente in maniera da sbavare per una donna in quel modo con una indecenza sono proprio viscidi e mi domando come possano le altre ragazze che sono comunque carine piangere e stare con dei tipi del genere sì l'amore sì tutto però arriva un momento dove la dignità il rispetto per se stesse dovrebbe proprio far dire a quelle ragazze ora basta it's time to walk away from this cioè c'è un livello di tossicità e dipendenza affettiva che è assurda e dovrebbero davvero aprire gli occhi e spero che lo faranno che veramente sono degli esemplari che anche se andrà a migliorare diciamo la situazione si sono già mostrati per quello che sono quindi io proprio non ci starei ma neanche se fossero gli ultimi esseri maschili sulla faccia della terra piuttosto singola vita datemi veramente cento gatti da amare con tutto il mio amore viva gli animali ma dei cosi del genere delle persone del genere ma neanche morta veramente la mancanza di rispetto e lì partiamo anche con un'altra coppia che è partita dal programma nel senso che se ne sono andati e questa coppia è invece che mi è rimasta impressa Ludovica Ludovica e Cristian io mi dico povero ragazzo questo Cristian che appunto è proprietario del bar dove lei lavorava dipendente affettivamente da lei cento per cento ho sofferto nel guardarlo nel vedere lei dire che non era il suo tipo che non provava quello stimolo ad avere rapporti intimi con lui che ha provato a cambiarlo e lui dall'altra parte infatti durante i follow diceva ma perché stai con me allora giustamente e però lui si vede proprio che avendo perdonato tanti tradimenti lui diceva venne perdonati due ragazzi però parlandosi chiaro lei si è comportata in quel modo a Tentation Island e lì mi fa pensare che ce ne saranno stati anche più di due che lui sappia e anche perché lei lei stessa appunto ha detto che nel bagno dove hanno aperto l'acqua l'hanno fatta scorrere lei che esce e piange dice non è successo niente lei afferma appunto che non è successo niente e io mi chiedo ma come fai tu da fidanzata con un ragazzo che ha perso la fiducia in te con un ragazzo che hai tradito tu come fai ad entrare in un bagno con uno che ti piace da morire con uno che comunque è veramente un bellissimo ragazzo non ha niente a che vedere esteticamente con il tuo ragazzo che magari può essere anche dall'altra parte può sentirsi screditato inferiore da un punto di vista fisico dopo che ti ha sentito dire che il tuo tipo è il tentatore e cioè mi sono sentita a cronare il mondo per lui veramente vi dico la verità perché l'ha palesemente tradito io non credo che si siano parlati semplicemente in quel bagno qualcosa sarà successo ragazzi cioè siamo adulti e devo dire che mi dispiace anche il fatto che lei nel criticarlo diceva appunto che lui parlasse sempre del bar cioè questo ragazzo si spaccava la schiena con la sua attività nel bar dove lei stessa lavorava e lei sputava nel piatto dove mangiava dicendo che lui parla parlava parla sempre di questo benedetto bar no comment no comment secondo me il fatto ragazzi è che se una relazione ok non funziona se una relazione è arrivata proprio a un livello di tossicità 100 basta cioè si deve essere abbastanza maturi da saper comprendere che la situazione non potrà cambiare che ce l'avete messa tutta ma siete o incompatibili o dall'altra parte c'è un livello di tossicità tale che è meglio scegliersi in prima persona ma viversi davvero queste storie basate su illusioni non so io non so come facciano veramente mi dispiace anche a vedere a vedere alcuni di loro piangere starci davvero male e mi dispiace altri che provano a dire voglio ancora vedere ecco io a quel punto mi sarei detta io ho visto anche troppo e appunto soprattutto nella coppia con Alessia e Lino cioè io con Lino avrei detto io ho visto tutto basta metto un punto grosso così super bold a questa storia e devo dire che comunque sta regalando grandi emozioni quest'anno il programma perché ci sono davvero altri personaggi incredibili per adesso appunto sono usciti soltanto la coppia appunto di come si chiama lei ancora una volta che non me la ricordo con la ragazza Ludovica e Christian sono i primi ad essere usciti perché lui ancora un po' gli scopiava il fegato povero ragazzo e dopo l'ultimo video che appunto li ritraeva all'interno del bagno a farsi la doccia insieme eccetera vorrei anche un po' vedere e poi appunto ci sono anche altre tante coppie interessanti Martina e Raul forse è l'unica coppia dove devo dire che mi ritengo di dire che lui è un bravo sembrerebbe un bravo ragazzo anzi non vedo neanche tutta questa gelosia in proporzione ad altri che invece hanno fatto veramente degli scatti per nulla e poi c'è anche la coppia di Vittoria e Alex lei proprio mi fa piangere il cuore perché lei è completamente innamorata di lui e lui non l'ho proprio inquadrato non l'ho non l'ho proprio inquadrato mi dispiace tantissimo per lei perché l'ho vista l'ho vista soffrire e dalle parole di Filippo probabilmente ne vedremo delle belle nelle prossime puntate sempre questi programmi molto interessanti perché vedi come le altre persone possono reagire a quelle che sono le delusioni della vita ragazzi perché credo che tutti nella vita abbiamo ricevuto delusioni amorose e è bello anche vedere come ti formano ecco in qualche modo a parer mio tutte quelle che sono state le mie le mie relazioni precedenti comunque mi hanno resa quella che sono mi hanno resa più sicura di quello che non voglio ecco sia di quello che voglio ma anche soprattutto di quello che non voglio in una relazione e il fatto che raramente cadrò in certi compromessi perché ho talmente tanto rispetto tanto amore verso me stessa che sono arrivata proprio alla consapevolezza che merito merito tanto ecco e spero di non sembrare o non so di non risultare pretenziosa però penso di meritare tanto e quindi e penso che comunque tanti di noi meritano tanto nella vita nei rapporti e quindi ecco vedere questi programmi è molto interessante sono dei casi umani quindi non c'è proprio comparazione nella real life però devo dirvi che fanno riflettere tanto fanno riflettere tanto e soprattutto fanno riflettere su quello che c'è là fuori perché ragazzi non siamo tutti di valori di cuore buoni c'è davvero là fuori la qualunque davvero preoccupante comunque spero di avervi fatto un po' compagnia io mi finisco questa goduria ragazzi se abitate qua in Inghilterra o in UK andate a prenderlo perché è delizioso è il mango and passion fruit cooler I love it una specie di granita italiana spero di avervi fatto un po' compagnia io oggi inizierò i preparativi per la valigia perché appunto devo fare la sia premia per la Sophie quindi devo prepararla un po' in anticipo per vedere di avere tutto e niente sono troppo contenta poi vi aggiornerò nelle settimane successive e vi terrò un po' partecipi magari su Instagram e vi devo anche dire che ho ricevuto ultimamente dei messaggi da tanti di voi che mi dicono appunto che non riescono più a trovarmi su Instagram e vi devo dire che ho cambiato il nickname su Instagram perché ultimamente mi sono esposta a riguardo di una tematica molto importante lì e ci sono stati dei account fake che mi hanno creato un po' di problemini ecco e quindi su Instagram ho cambiato il mio handle di Instagram che appunto vi lascio qui e in infobox e non sono più Miss Merci Boku solo su Instagram per questo motivo ma presto tornerò a esserlo quindi ci tenevo a dirlo perché appunto tanti di voi mi hanno detto Sara non ti trovo più su Instagram ci sono ancora ci sono ancora e rompo anche le ballette ogni giorno con cose un po' più sarie però so che capirete e niente io vi mando uno due tre besos e ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo vlog take care guys ciao 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 ragazzi ciao ragazzi ciao